Guardando quelle carte che vertevano intorno al gestore anaerobico, questa specie di scariche che volevano fare, abbiamo scoperto, dopo mesi di lavoro e di richiesta di documenti, che è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'ASET, ERA Ambiente e la Marche Multiservizi già il 16 dicembre 2014, cioè qualche settimana dopo che era stato eletto il sindaco di Fano. È stato firmato questo protocollo che è stato tenuto all'oscuro del Consiglio Comunale, non c'è nessuna autorizzazione per questo, ma soprattutto all'oscuro della città, dei cittadini che non sapevano che c'erano questi accordi provinciali che andavano, in questo senso, verso accordi ben più importanti di fusione provinciale e della gestione dei rifiuti. Nessuno mi ha detto niente, noi abbiamo fatto interrogazioni, discussioni continue in Consiglio e non è mai emerso nulla di tutta questa vicenda. Oltre a quello ci sono lettere inviate da ASET insieme a Marche Multiservizi e alla Regione Marche, al Presidente Ceriscioli, per dirgli che Fano dovrà diventare la discarica di tutta la provincia, perché questo è il risultato di questo grande lavoro, Fano diventerà la discarica di tutta la provincia, probabilmente di una parte della Romagna e sicuramente di una parte di Ancona, per quanto riguarda la discarica di Montesquiantello che verrà ampliata, così come verrà realizzata una nuova discarica per la gioia di chi abita come me a Falcineto e a Bellocchi, una nuova discarica con digestore anaerobico proprio in quella zona, tra la zona industriale e Falcineto. Questi sono i progetti e sono i documenti scritti, quindi non stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando di documenti scritti, di documenti votati all'ATA, questo è un documento che è stato portato all'ATA rifiuti e che il Comune di Fano ha votato, quindi non sono ipotesi o illazioni che noi andiamo a fare. Di tutto questo ovviamente chiederemo assolutamente spiegazioni al Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale è sovrano e le scelte strategiche le fa il Consiglio Comunale, non il Sindaco per conto suo o l'ASED per conto proprio. Di fatto noi ci metteremo nelle mani in questo momento di Marche Multiservizi, perché oltretutto all'ATA rifiuti è stato approvato la diminuzione, come è già uscito sulla stampa, della gestione dei rifiuti dal 2050 al 2030 per il Comune di Fano. Il Comune di Fano ha votato a favore di quel documento, attenzione. Ecco, la discarica viene solo a Fano, i rifiuti e la gestione viene fino al 2030, di fatto l'ASED viene in qualche maniera spolpata e presa da Marche Multiservizi. Questa è la strada che hanno costruito piano piano, mattone dopo mattone, dal 2014. Però è venuto fuori questa cosa ed è importante e mi auguro che tutti, indipendentemente dalle parti politiche, si oppongano a questa cosa.